buongiorno amici buongiorno amiche salutiamo mickey ancona che ci ospita nel suo bellissimo canale mi raccomando iscrivetevi e in particolare a questa playlist dedicata agli accessori per auto oggi come vedete siamo collegati con un iphone alla mia auto ma qui ci abbiamo android auto qual è qual è dei due che mente la colpa è sua di questo box della mmb non mi fate togliere le plastichine perché non sono sicuro di tenerlo forse lo devo lo devo dare indietro allora che cosa ha questo box qui davanti niente di niente di che c'è la vediamo se riesco a farvela vedere c'è la mini usb no scusate la mini hdmi che è presente come sapete solo nei box premium e lui è un box premium qui c'è questo led dal colore personalizzabile qui c'è il vano per la sim la micro sd che io ho inserito vano richiudibile ai lati non c'è nulla sotto c'è la dissipazione e un po di luce che però viene sempre dal dal led sopra vedete non è grande è carino è solido scusate plastichine abbiate abbiate pazienza ma essendo lucido si riga molto facilmente quindi lui lo abbiamo visto prima caratteristica a mini hdmi che è solo nei premium per espandere la memoria da 128 quindi abbiamo la sd e non la normale presa usb qui in questo momento sono collegati lui e questo realme e questo realme sta andando android auto wireless nella mia autoradio autoradio nella quale android auto c'è ma dovrebbe essere via cavo invece grazie a questo box sta funzionando via wireless e non via cavo per fare ciò c'è un piccolo trucco che usano tutti questi box cioè utilizzano il modulo carplay per entrare nell'autoradio e fare poi quello che vogliono cioè far andare android auto wireless carplay wireless play store eccetera poi andremo a vederlo però nella vostra auto diciamo il sistema vedrà collegato un iphone quindi qua non sono visibili le copertine spotify e non è possibile vedere la lista delle chiamate ma dovete utilizzare android auto per telefonare vedete amici andrete qui per fare le vostre telefonate non potete usare i comandi dell'automobile per telefonare ma insomma non è un grandissimo problema proviamo se funziona l'assistente vocale che alcune volte con questi box non funziona bene previsioni meteo domani a charme shake in questo momento a marsciano ci sono 14 gradi e pioggia oggi pioverà con una massima di 15 gradi e una minima di 7 allora ha sbagliato la località ma almeno funziona in altri box abbiamo visto che neanche funzionava facciamo un altro tentativo quanti abitanti a new york nel 2021 la popolazione di new york era di 8 milioni e 467 mila 513 persone dai funziona assistente vocale per fortuna funziona android auto funziona spotify podcast funziona tutto quindi con questo box android auto wireless no problem adesso però andiamo al box vero e proprio nel senso le funzioni quelle che da voi sono più più richieste e quelle le quali siete più più curiosi allora qui adesso togliamo un attimo l'audio allora questa qui è l'interfaccia principale io qui ho messo la riproduzione dei dei video ma potete metterci qualsiasi cosa voi vogliate come spotify oppure maps quello che vi pare queste due iconi sono sempre presenti è per andare su android auto e carplay dove in effetti noi eravamo prima adesso vi faccio vedere allora perché adesso non funziona perché perché ve lo spiego subito il wifi in questo momento è occupato da android auto quindi o voi qua mettete una sim e in quel caso bypassate ogni tipo di problema se invece voi gli date internet o con il tethering del cellulare o come nel mio caso qui ho una sim quindi una fonte esterna di dati quindi quando voi avviate android auto il wifi viene occupato da android auto quindi vediamo cosa qual è la situazione vedete si è spento per far funzionare android auto adesso noi lo accendiamo vedete mi collego alla sim che ho qui presente oppure vi collegate al tethering dello smartphone e vedrete che adesso magicamente youtube funzionerà e funzionerà e funzionerà anche bene vediamo un po eccolo qua youtube io poi ho una versione senza pubblicità vedete è partito subito si vede senza ritardi si vede in buona qualità si vede anche mentre voi siete in movimento quindi se voi se voi state guidando potete guardare tranquillamente anzi il passeggero chiaramente non chi guida youtube quindi android auto funziona youtube funziona e funziona anche in movimento però con la premessa appunto di come potete dargli i dati torniamo alla schermata principale qui c'è vedete questo video in riproduzione è presente nella mia sd è un video 4k vedete ogni tanto c'è qualche piccola distorsione e questo qua si vede schiacciato ma forse perché in questo momento stiamo usando un widget vediamo per esempio se c'è vlc si vediamo un po' se con vlc le cose cambiano lo facciamo insieme lo facciamo in diretta questa mi pare no era proprio l'altra invece andiamo avanti ho due video nella sd vediamo adesso come li riproduce con vlc c'è qualche sgranatura non so se è colpa del video o di vlc ma vediamo se l'altro come si vede l'altro video vediamo l'altro video il nostro amico matteo virgilio amico dei malati di smartphone di cui io faccio parte no si vede bene quindi probabilmente era questo video avere qualche piccolo qualche piccolo problema quindi io direi che anche il lettore video è promosso ma poi sai che c'è che comunque voi avete aperto voi avete aperto il mondo perché da qui potete installare tutti i tutti i lettori video che volete non siete obbligati a utilizzare quello di sistema vediamo poi se ci sono gli aggiornamenti guardate è molto è l'ultimissima versione presente vediamo se ce n'è una disponibile vediamo ieri non c'era quindi penso che non ci sia neanche oggi una versione disponibile ok dice che abbiamo l'ultima versione disponibile effettivamente gennaio 24 direi che ci possiamo ci possiamo accontentare vedete vi faccio una piccola scorsa io ho installato anche la pk di c più z perché voi potete installare anche la pk vedete qua ci cosa ci dice vedete che abbiamo uno snapdragon vedete abbiamo 100 gb liberi di memoria interna 763 gigabyte di ram è un bel bestione un bel top di gamma anche perché vi faccio vedere che lui ha il gps integrato vedete adesso sono in un luogo chiuso quindi non prendono bene ma funzionano anche il gps integrato vedete amici abbiamo veramente tutto e fino adesso funziona tutto vi faccio vedere poi un attimo le impostazioni eccole qua quelle rapide oppure andiamo qui e ci sono anzi scusate andiamo qui è come se andassimo in uno smartphone con le classiche impostazioni dello smartphone io ho cambiato la lingua questo è il nome del dispositivo e qui c'è qualche opzione ma noi l'abbiamo già vista l'abbiamo già vista vedete android 13 e come vi dicevo abbiamo 8 gb di ram e 128 di memoria interna quindi che dire top di gamma mmb finalmente il sensore scusate l'assistente vocale di android auto funziona vediamo se funziona anche l'assistente vocale proprio invece qua di mmb previsioni meteo domani a sharm el shake a sharm el shake domani ci sarà il sole con una massima di 27 gradi e una minima di 18 dai ragazzi non ci possiamo lamentare un bel puliamo la memoria un bel mostro questo box ringrazio micchi ancona che me l'ha fatto avere spero me ne faccia avere degli altri scusate se oggi la come dire la qualità del video non è top perché è una giornata un po' uggiosa ma tanto voi apprezzate i miei video non per la qualità video ma spero per la chiarezza dei contenuti io sono uno di voi provo un device come foste voi a provarne uno con i suoi con tutte le sue problematiche possibili direi che per adesso ci possiamo ci possiamo salutare ringraziamo sempre micchi ancona che ci ha fatto avere questo box mi raccomando iscrivetevi e a presto ciao 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 ciao